La pugilistica lucchese Brille sfiora l'unplaying al prestigioso torneo NEPI di Firenze. Dopo il successo della settimana scorsa con Filippo Rimanti, il primo a salire su ring è stato a Schraf-Leca, categoria 67 kg youth, che ha affrontato il campione regionale 20-21 della categoria Pasquale Salzillo della Calcianti Verdi Firenze. Avversario pericoloso, soprattutto alla corta distanza. Salzillo però non è riuscito ad esprimere la sua supremazia nello scontro ravvicinato, grazie ad una gestione intelligente del match da parte di Lecal. Il pugile lucchese ha sfruttato un ottimo gioco di gambe per allontanarsi dall'avversario e rientrare poi con rapide combinazioni e grazie ad un ottimo tempismo nel compiere l'incontro a Salzillo è riuscita ad interrompere bruscamente le sue offensive in più occasioni e a meritare il verdetto. Match di grande intelligenza anche per Lorenzo Frugoli nella categoria LIT 75 kg, opposto al cararese Matteo Tovani, uomo molto pericoloso a cui può bastare un colpo per risolvere l'incontro. Anche qua il copione prevedeva di sfruttare il gioco di gambe e le capacità del pugile made in Lucca per non dare spazio all'avversario, cosa che Frugoli è riuscito a fare con abilità, anche andando a segno con potenti ganci sinistri al volto, che hanno fatto più volte vacillare Tovani. Il cararino non si è però dimostrato facile da domesticare e nella seconda ripresa è riuscito a mettere a segno un pesante montante al corpo, che ha messo in difficoltà Frugoli. Con l'inizio della terza ripresa però si è tornata a vedere la superiorità tecnica del pugile lucchese, che ha conquistato il match vincendo nettamente la prima e l'ultima ripresa.